Ha detto che l'uomini a lei la corteggiano mentre con te pensano ad una notte. Eh, si vede che Maria, io sulla notte sarò da dieci e lode, che te devo dire? Io me ti voglio proprio immaginare a te a letto, voglio proprio vedere a letto come sei, ti vorrei sentire parlare a letto. Guarda, ti vorrei proprio sentire parlare a letto. Non posso parlare, Roberto. Maria, ti rendi conto? Io posso dire pure le peggio cose, no? Le peggio parole. Però poi dopo dieci minuti mi passa. Invece lei è perfida dentro, capisci? No, a me non mi tocchi proprio, è diverso. Se le prepara le cose, tu te le prepari, perché sei proprio cattiva. Aspetta, ce lo dico io, sei proprio cattiva. Ho sbagliato qualcosa, mannaggia, ho sbagliato parole. Però scusami, anche tu comunque, Nicola, non è che sei molto tenera con lei. No, perché mi ha decisamente levato la pazienza. Pensano magari per una cosa lunga e duratura e lei per una notte. Cioè, mi sta dando la... Hai capito? Hai capito? E io non te lo consento, perché io c'ho una faccia, c'ho un figlio. E te mi hai detto tante altre cose. Hai capito che non te lo consento? E invece, mossa, ma che fai che ti avvicini? Ma che significa? Ma che cosa significa, mossa, ma rimane pure la posta tua. Ma che cosa significa, mossa? Ma sei di Roma o di dove sei tu? Ah, boh. Lo sai che significa? Che sei bella, ti ho fatto pure un complimento. Ma non balli. E non ballerei mai, perché il mio carattere non ce l'avrai mai. Ma meno male. Mai. La mia personalità, ma anche se tu me la lascio, ti arriva, manco. Nicole non l'ha offeso, si difende. La mia personalità, ma anche se tu me la lascio, ti arriva, ma anche se tu me la lascio, ti arriva, manco, 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 ti arriva, man